Ogni videomaker che si occupa anche di montaggio video o semplicemente ogni montatore video ha sempre avuto e sempre avrà un chiodo fisso, ossia il classico pensiero che ti ronza in testa senza sosta, che ti fa dire quanto sarebbe bello riuscire a montare questo video più velocemente. Ebbene, non esistono in alcun modo dei trucchetti per velocizzare un montaggio video sfruttando qualunque software, ma sicuramente conoscere a fondo il software che state utilizzando vi permetterà di sviluppare alcuni tips che potrebbero velocizzare il vostro workflow. Quindi non che potrebbero velocizzare l'intero procedimento di montaggio video, ma il vostro personale flusso di lavoro. Io utilizzo Adobe Premiere da un bel po' di anni ormai e nel corso del tempo, avendo sempre questa voglia di velocizzarmi il più possibile per dedicarmi magari anche un po' di più alle riprese, al posizionamento delle luci, alla scrittura, agli storyboard e a tutto il resto che c'è di mezzo quando si deve in qualche modo realizzare un video, ho sviluppato un mio personale workflow come fanno praticamente tutti i montatori video e all'interno di questo mio personale workflow ci sono delle cosette che faccio periodicamente che mi salvano letteralmente la vita e velocizzano completamente il mio modo di montare video. Quest'oggi, all'interno di questo video, vorrei condividere con voi 5 consigli per velocizzare il vostro workflow utilizzando Adobe Premiere Pro. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi. Per chi non dovesse conoscermi, io mi chiamo Alessandro, sono un fotografo e videomaker e su questo mio canale si parla per l'appunto di fotografia e videomaking ma anche di tecnologia e di roba nerd ogni tanto quando mi va di nerdeggiare. Quindi, qualora non doveste conoscermi, vi invito a fare un giretto sul mio canale per vedere più o meno di cosa tratto. Ma adesso, bando le ciance, direi di partire subito dal primo punto, nonché il primo consiglio che voglio darvi per velocizzare il vostro workflow. Ossia, ordinare i file dedicati al vostro progetto video prima di iniziare a montare direttamente all'interno di una cartella. Infatti, prima di poter arrivare ad avere una timeline del genere, molto ordinata e divisa in vari punti, la cosa principale e più importante da fare è ordinare i file già prima di partire con il progetto. Più o meno in questo modo. Dividendo i file per cartelle, potremmo semplicemente prendere tutte le cartelle e importarle direttamente in Premiere Pro. Cosa che io ho già fatto all'interno di questo progetto, infatti le stesse cartelle potete vederle qui. Quindi, ricordate che è veramente molto importante fare ordine prima di iniziare con il progetto, perché questo vi farà perdere un po' di tempo prima di partire effettivamente con il montaggio video, però vi farà anche risparmiare tantissimo tempo in seguito, quando dovrete iniziare effettivamente. Con l'editing. Ma passiamo adesso al secondo consiglio. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di trovare il vostro personale metodo per selezionare le clip che andrete ad utilizzare all'interno del vostro video. Alcuni dei metodi più utilizzati sono questi qui. Molte persone, quando creano una nuova sequenza in questo modo, preferiscono buttare direttamente all'interno della timeline tutti i file di cui potrebbero avere bisogno. Così. Guardare i file ad uno ad uno, andare quindi di la metta, tagliare i file, eliminare le parti che non servono e tenere tutto ciò che potrebbe servire. A me non piace utilizzare questo metodo, perché ne conosco uno molto più veloce e molto più pratico soprattutto. Innanzitutto facciamo una cosetta. Andiamo ad allargare il nostro pannellino del progetto. Una volta in questa situazione, come molti di voi sapranno, ma anche come molti di voi ignorano, non abbiamo soltanto la visualizzazione ad elenco per quanto concerne i nostri file qui dentro. Infatti possiamo utilizzare anche la visualizzazione ad icone e la visualizzazione libera. Ciò che serve a noi è sfruttare la visualizzazione libera. Questo perché una volta entrati in visualizzazione libera potremmo spostare le cartelle letteralmente dove vogliamo, anche sulle altre cartelle. Quindi apriamo ad esempio la cartella dei B-roll, che in questo caso contiene tutte le immagini dei film, delle serie tv e dei videogames di cui parlo all'interno del video. Ecco qui, ha caricato le anteprime. Bene, riduciamo un po' le dimensioni. Qui abbiamo tutte le nostre clip, quindi diciamo che questa qui vogliamo utilizzarla. Questa pure, questa pure, questa pure. E continuiamo a fare così con tutto ciò che vogliamo utilizzare, mettendo da parte ciò che invece non vogliamo usare. Ok, facciamo finta che queste sono le clip che voglio utilizzare, mentre queste sono quelle che non voglio utilizzare. Anche se all'interno di questo video in realtà ho già fatto questa selezione, quindi si tratta di clip che voglio utilizzare nella loro interezza. Quindi sono tutte clip utili. Queste qui potremmo semplicemente eliminarle cliccando sul cestino. Quindi visto che si tratta di clip non utili, potremmo iniziare a fare un po' d'ordine. Una volta scelti i file da utilizzare, in realtà il pannello di visualizzazione libera non ha ancora mostrato tutta la sua utilità. Infatti, prima ancora di partire con il montaggio video, potremmo sfruttare questo pannellino per creare una sorta di storyboard. Potremmo scegliere che vogliamo utilizzare prima questa clip, poi vedere che tipo di clip sia questa e scegliere un punto di in e un punto di out e dire che vogliamo utilizzarla qui, poi vogliamo utilizzare questa e così via. Quindi possiamo creare un vero e proprio storyboard sfruttando soltanto le nostre immagini. Come detto precedentemente, questo procedimento ovviamente vi farà perdere un po' di tempo, ma una volta che riuscirete a vedere le vostre clip in questa maniera, sarà tutto molto, molto più chiaro. E ovviamente voi potrete tranquillamente cliccare due volte su ogni file e scegliere punti di in e out per ognuno di questi. Quindi in ed out. Una volta che avremo scelto tutti i punti di in e out e che avremo avuto tutta la nostra timeline così visivamente a storyboard, possiamo semplicemente prendere la nostra clip e importarla nella nostra timeline, in modo da avere direttamente già il nostro premontato. Questo ci farà risparmiare tutto ciò che dovremmo fare con le prime fasi dell'editing. Infatti ci farà risparmiare il tempo di fare tutto questo procedimento all'interno del pannellino timeline. Faremo tutto ciò all'interno del raccoglitore. Ma passiamo subito al prossimo consiglio. Il terzo consiglio, e questo è uno dei più importanti in assoluto, è quello di dividere le tracce, sia le tracce video che le tracce audio, in base ai diversi elementi che ci saranno all'interno della vostra produzione. Mi spiego meglio. Il terzo consiglio è molto più semplice da spiegare e per farlo posso mostrarvi direttamente la mia timeline completa. Ho detto che dovremmo utilizzare tracce video separate per elementi differenti. Cosa intendo? In questo caso, per mostrarvelo, mi basterà zoomare un po' alle varie tracce video. Ad esempio, nella traccia video 1, io ho messo tutte le clip in studio, quindi tutte le riprese principali della mia persona. Ridimensioniamo di nuovo la clip video 1, così potrò mostrarvi che invece nella clip video 2 abbiamo tutti i vari biroll. Quindi l'introduzione al canale, il biroll del pennarello e poi tutte le varie clip prese dai film, dalle serie tv, dagli anime e dai videogames. Ecco qui. Ma torniamo nuovamente indietro. Facciamo collassare la traccia video 2 e guardiamo la traccia video 3. Questa sembra essere praticamente vuota, vero? Ma non è così. Infatti, andando avanti, abbiamo i livelli di regolazione che vanno ad agire direttamente sulle mie clip in studio per fare questo. Quindi si tratta del vero e proprio color grading. La color correction sta direttamente all'interno della clip. Il color grading sta qui, sul livello di regolazione. La stessa cosa ovviamente andrà applicata anche alle tracce audio. Infatti, ad esempio, la mia prima traccia audio è il voice over, quindi il parlato principale. La seconda traccia audio contiene invece gli effetti audio che vanno ad applicarsi direttamente alle transizioni e a poche altre cose. Infatti, sono pochissime clip all'interno di tutta la timeline. La terza traccia audio comprende la musica dell'intro. Ogni tanto ci metto anche qualcos'altro, ma in questo caso all'interno di questo video c'è soltanto la musica dell'intro, però potrebbe contenere un po' di sound design perché sta a volume un po' più alto rispetto alla traccia audio 2, quindi potrebbe essere utile, visto che poi masterando l'audio posso cambiare direttamente il livello di ogni clip individualmente. Ed è utilissimo mettere le clip che si vogliono avere ad un volume più alto su un altro livello rispetto alle clip che si vogliono avere ad un volume più basso. E infine, nell'ultimo livello, abbiamo la musica di background, la musica di sottofondo. Tutto ciò a cosa serve? A nascondere le tracce in maniera individuale. Ad esempio, se all'interno della riproduzione dovessimo incappare in dei rallentamenti, potremmo semplicemente andare a eliminare tutte le clip di effettistica e sfruttare soltanto la clip video in studio e i b-roll, in modo da avere comunque il nostro video, ma premontato, senza nessun effetto. Poi ovviamente, quando si esporterà il video, si dovranno attivare nuovamente tutti gli output della traccia e quindi si recupereranno tutti gli effetti video, tutti i testi e tutto ciò di cui abbiamo discusso. La stessa cosa vale per l'audio. Qualora volessimo in qualche modo modificare soltanto il voiceover, ci basterà soltanto mutare le tracce audio, che non ci servono. Questo non è un metodo che vi farà risparmiare tanto tempo nell'immediato, ma è un metodo che vi farà risparmiare più che altro sanità mentale, perché avere ogni traccia separata all'interno della vostra timeline vi permetterà di lavorare su ogni traccia individualmente. Il quarto consiglio, che è quello che mi salva di più la vita all'interno dei video che realizzo per YouTube, perché lo utilizzo veramente tantissimo, soprattutto visto che giro in log con la mia Sony Alpha 6500, è quello di sfruttare al meglio la traccia master, che è una cosa che poche persone fanno e io seriamente non capisco il perché. E la traccia master vale sia nelle tracce video che nelle tracce audio. Molte persone conoscono la traccia master solo all'interno del pannellino audio, ma esiste anche per le tracce video. E andiamo a vedere di cosa sto parlando, perché è veramente interessante e vi farà risparmiare veramente tantissimo tempo. Con i nostri due effetti abbiamo fatto color correction e color grading, giusto? Però qui abbiamo la stessa clip video, quindi gli unici modi per importare color correction e color grading sono o tornare sulla prima, scegliere entrambi, copiare con ctrl-c e incollare con ctrl-v, o cliccare col tasto destro, scegliere copia e poi selezionare incolla attributi, in modo da scegliere i nostri effetti e cliccare su ok e avere comunque la nostra traccia gradata. Ma questi non sono gli unici modi, assolutamente, per fare tutto ciò, anche perché questo procedimento dovremmo farlo singolarmente per ogni volta che c'è questa clip, oppure dovremmo semplicemente mettere su questa timeline un livello di regolazione che possa in qualche modo avere l'effettino e quindi funzionare per tutte queste clip. L'unico problema è che avendo l'effettino andremo anche ad influenzare le altre clip, quindi anche con il livello di regolazione dovremo comunque scegliere la nostra lametta e andare a tagliare in questi casi e tutto ciò ci farà perdere tantissimo tempo perché avremo un livello di regolazione tutto frastagliato che dovremo frastagliare manualmente. Bene, ragazzi, per queste cose esistono i livelli master. Cosa intendo? Vi faccio vedere. Torniamo nella nostra clip in studio. All'interno di questa clip io posso incollare i miei colori lumetri, ma non è ciò che voglio fare io. Infatti, questi due effetti colori lumetri voglio che siano attivi per ogni volta che questa clip comparirà all'interno dell'intera timeline. E come si faccio? Semplicemente cliccando qui, su questo quadrettino che è sempre grigio e sempre invisibile, su Principale, nome della vostra clip. In inglese Master, nome della vostra clip. Infatti, una volta cliccato qui, saremo all'interno della traccia Video Master. Se andremo infatti ad incollare qui i nostri effettini, questi, con la lineetta che compare, verranno applicati ad ogni volta che la nostra clip comparirà all'interno della timeline. Una volta finito il premontato, se c'è qualcosa che dovete fare ad una clip e non potete utilizzare per svariati motivi, come ad esempio il cambiare delle inquadrature, i livelli di regolazione, potete sfruttare, e anzi dovete, a mio avviso, sfruttare le tracce Master che fanno risparmiare tantissimo tempo e fanno sì che non ci sia tutto quel lavoro di copia e incolla generale e soprattutto che quando andrete a modificare in qualche modo la vostra color, ad esempio così, questa vada a modificarsi sempre per ogni volta che compare la vostra clip. Ecco qui, qui sarà modificata, qui sarà modificata e questo vale per ogni qualvolta che comparirà. Ma prima di concludere, c'è ancora un ultimo consiglio che vorrei darvi. Andiamo a vederlo. Il quinto ed ultimo consiglio, anche se molte persone non saranno d'accordo con me, perché poi ognuno ha il suo workflow, ma vi giuro che, nel mio caso, velocizza veramente tantissimo l'intero lavoro di montaggio, è quello di utilizzare e abusare, perché no, dei marcatori video. Magari direttamente con lo shortcut da tastiera, ossia il tastino M. Molti di voi probabilmente ci avevano già fatto caso, insomma, la mia sequenza è piena di marcatori colorati come gli M&M's. Questo principalmente perché io utilizzo i marcatori nei modi più disparati, anche perché è semplice applicarli. Infatti, in un punto qualunque della timeline, vi basterà premere M sulla tastiera per attivare un marcatore, e vi basterà ripremere M senza muovere, per dare un nome, un colore, e magari una descrizione a quel marcatore. Quindi, esempio, diciamo che il nostro lavoro va bene fin qui. Creiamo un marcatore e lo facciamo bianco. Questo per noi, magari, nella nostra mente, significa che fin qui va bene. Però, facendo playback, ci rendiamo conto che qui c'è qualcosa da modificare. Facciamo un marcatore rosso. Qui dobbiamo modificare qualcosina. Qui un altro marcatore rosso. C'è qualcosa da modificare, evidentemente. Una volta che avremo modificato questo marcatore, torniamo indietro. Cliccando semplicemente sul marcatore all'interno della timeline, clicchiamo nuovamente M, e scegliamo Elimina. Avremo fatto un po' d'ordine, non c'è più il marcatore, significa che non c'è niente da modificare. Però fin qui va bene. Quindi questo marcatore possiamo tranquillamente spostarlo dove prima ci stava il rosso. Scegliamo il marcatore bianco, torniamo al bianco, e facciamo Elimina qui. Quindi sappiamo che fin qui il nostro lavoro è completato, perché per noi bianco significa che il lavoro è completato. Poi, ovviamente, voi utilizzate i vostri colori, non quelli che utilizzo io, perché ognuno ha il suo modo di pensare con i marcatori. Molti non li utilizzano proprio, ma ognuno ha il suo modo di pensare. Una volta completate il lavoro, potete utilizzare i marcatori semplicemente per creare dei capitoli. Ed è ciò che ho fatto io all'interno di questo video. Una volta che si avrà l'intera timeline, basterà, ripeto, cliccare sul marcatore qui, oppure qui, per avere direttamente il timestamp qui, e per poter arrivare direttamente a quel punto della nostra sequenza. Questo, secondo me, è un modo veloce per definire dei singoli punti all'interno dell'intera sequenza che si vogliono raggiungere velocemente, che magari potrebbero essere persi di vista una volta che si prosegue. Quindi, avere un colore che si utilizza per far capire a noi stessi, che fino a quel punto il lavoro va bene, e avere un colore che si utilizza per far capire a noi stessi che lì va aggiunto magari un testo, che lì va aggiunto una motion graphic, che lì va modificata quella cosa che magari potrà essere fatta in seguito, quando il cliente ci manderà il logo, oppure quando troveremo la risorsa utile per fare quella cosa. Questo ci farà risparmiare a mio avviso un casino di tempo perché ci permetterà di andare avanti e poi poter ritrovare quel singolo punto semplicemente cliccando sul nostro marcatore. Quest'ultimo metodo molte persone non lo utilizzano, ma io lo trovo stracomodo per navigare in maniera cosciente e con un po' di intelligenza all'interno della nostra timeline. E a proposito di shortcut da tastiera, ovviamente un consiglio extra potrebbe essere quello di stampare la lista di shortcut da tastiera e metterli vicino al vostro computer, in modo da spingervi a utilizzare quelli fino ad impararli, perché ovviamente imparare gli shortcut da tastiera vi farà risparmiare tantissimo tempo perché saranno dei piccoli secondi che a lungo andare si trasformeranno in minuti e a lungo andare si trasformeranno in ore e quindi in qualche modo velocizeranno il vostro workflow. Però questo è un consiglio un po' extra, un extra tip, un po' supplementare e diciamo più facoltativo rispetto agli altri. Gli altri principalmente vi fanno risparmiare molto, molto più tempo e sono molto più immediati, perché comunque per imparare gli shortcut da tastiera dovete impararli, quindi sprecherete tantissimo tempo per impararli. Il gioco vale la candela? Sì, ma se passerete ad un altro software dovrete rimparare tutto. Quindi, detto ciò, questo video può dirsi concluso. Io spero di esservi stato utile, spero che questo video vi abbia fatto imparare qualcosa e spero che in qualche modo abbia contribuito a velocizzare il vostro workflow. Ma adesso chiudete questo video, chiudete il browser, andate a montare i vostri video utilizzando magari i consigli che vi ho appena dato. E poi fatemi sapere qui sotto con un commento tornando all'interno di questo video se vi sono stati utili oppure no. Mi interessa molto sapere per l'appunto se sono riuscito ad aiutarvi. Quindi commentate qua giù dopo aver provato i miei consigli però. Cosa molto importante. Noi quindi ci vediamo in un prossimo video sempre all'interno di questo mio canale. Qualora non foste ancora iscritti, come al solito vi invito a iscrivervi, a seguirmi, soprattutto se vi interessa il mondo della fotografia e del videomaking. Quindi alla prossima gente. Bye bye.